La nuova finale del campionato femminile in realtà è un déjà vu, si ritroveranno di nuovo di fronte Conegliano e Novara. Novara ha chiuso la serie di semifinale con un tie-break al cardiopalma sul terreno di Siena contro Scandicci, una 3-2 con un 21-19 finale, 4 matchball annullati da Novara che al quinto invece, dalla sua parte, ha avuto la meglio sulla formazione toscana. Stefania Sanson ha una battaglia straordinaria che vi lancia verso una finale che ci aspettiamo altrettanto bella. Noi siamo felicissimi di aver conquistato anche questa finale Scudetto, siamo una squadra che come si è visto non soltanto in questa partita, ma anche nella scorsa non molla mai, mai. Quando l'avversario prende il sopravvento noi cominciamo a giocare. Appuntamento contro Conegliano in casa vostra il primo maggio. Sì, aspettiamo tantissima gente a Novara, ringrazio i nostri tifosi per essere venuti fino qui, e cominciano una nuova battaglia. È la finale, quindi siamo tutte felici e carichissime. Finale e poi naturalmente alla fine di tutta la serie ci sarà un altro appuntamento di finale per la Champions, sempre contro Conegliano. Penso che sono arrivate in finale le squadre che l'hanno meritato di più, che hanno messo quel qualcosa in più, sempre, in tutte le partite. Quindi è giusto così e volevo fare i complimenti a Scandicci per la prestazione straordinaria di questo finale di stagione.